Buongiorno a tutti ragazzi! Siamo in giornale nel primo video di sul tablet perchè sono in tablet su Bruno Stas ho appena shoppato un leggero mmi pacchetto che stava oggi prossimo pelling caccio posteri caldo 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 cazzo ho provato l'unico capo all'unico oggi siamo due che ragazzi non ce l'avevo provo tutto e ragazzi io faccio un po' questo che ho avuto questo carmello un po' 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 guardi un blu mistasso manca fatissima guarda c'è Dezek non so chi è è Dezek sarà qualcuno quella so tutto io so Dio ok ora mi piace ora ragazzi visto mi sarà mi si è alzata mi dovrebbe essere alzata la proprietà neanche quello cazzo che si è passato che schifo va bene da 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 Non ci credo. Zero. Ah sì. C'è il mio padre. Grazie Tara di avermi aperto la cassa. Scopo. Giuseppe è morto, è morto Giuseppe. Giuseppe è morto, morto. Tararararara, tarararara, 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 no mio Dio. E due. Va bene, dai raga. Per il primo figlio su Brule Sars, vi mostrerò anche. Allora, questi sono i miei Brule. Sì raga ho Leon. A livello 7. Che è fortissimo. E adesso andiamo a usare Sceglia a livello 7. Che è il triplo più forte di Bull. Saluto frax tutti. Mettete un like, scrivete al canale e attivate al campo. Ricordatevelo. Io aspetto poi. Vi faccio anche uccidere. Io aspetto poi. Dovete mettere like. Sì sì. Io aspetto. Non c'è più niente. Hai visto like? Sicuro? Voglio un bel pollicione. Mio Dio mi è scappato dalle mani. Ni ni ni. Na 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 na. Na 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 na. Oh mio Dio mi ha distrutto. Oh mio Dio mi ha distrutto. Oh mio Dio mi ha distrutto. Meno 3? Va bene. Meno 3. Fantastico. Così io non so come si usano sta roba. Però anche io non lo so. Se vuoi. Non so cosa sto facendo. Cos'è sta roba? Si è buggato tutto. Allora. Vabbè ragazzi. Ci vediamo un nuovo video. Bella. Ciao. Ciao.